anch'io quando ero in vita cerchi umanità in movimento attraverso domenico p a cura di vb entità gata io sono il vostro specchio anch'io quando ero in vita siamo intorno al 500 nota del redattore ero come voi mentre ora dove mi trovo mi sono resso conto di ciò che ero e di ciò che non dovevo essere per capire le ragioni vere della mia vita che era dissoluta pertanto oggi in questa dimensione posso e sono in grado di darvi alcune istruzioni di comportamento affinché possiate evitare il più possibile gli errori che state commettendo a questo punto l'entità dialoga con alcuni presenti che le fanno domande risponde essa orientemente si raccomanda di evitare in particolare l'ipocrisia poi continua io sono sempre il vostro specchio e come tale vedo voi come vi vedevo quando ero in vita quando non capivo che cosa era la vita spirituale che avrei dovuto perseguire ma grazie al volere dell'altissimo dove mi trovo adesso ho la completa visione anche del vostro comportamento che dovrà comunque essere modificato commento ebbene sempre ricordare che ogni entità legata ancora come gata al ciclo delle rinascite umane valuta la propria vita e quella degli altri al filtro del suo grado di evoluzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti